Allora, siamo qui con Coach Kaya, Italia qualificata ai mondiali, Coach un commento! Questa è una partita sempre sotto controllo, un'ottima brigazione difensiva, poi l'assasso a turno, ognuno ha giocato con le proprie qualità, quindi è assolutamente meritata e assolutamente di grande valore questo risultato, il mondiale è un risultato di Italia. Maresa ha dimostrato insomma di poter essere una grande città di basket e del pubblico risposta. Il pubblico sarà sold out da dieci giorni, quindi veramente volute! Grazie, ci vediamo domenica!